Questo è un momento molto emozionante, un momento che in qualche modo da giorni, credo che tanti di voi lo abbiano sperato, non era una passeggiata perché comunque sia le condizioni anche esterne erano complesse. Io ci ho creduto fin dall'inizio, come ci avete creduto anche voi, è stata una campagna, ma è stata nata dal basso, da un gruppo di persone che fin dall'inizio hanno creato dei cani forti, soprattutto sui territori. E poi hanno un'immagine diversa, non è quella della contraposizione, non è quella del linguaggio brutto e cattivo contro le altre persone, ma è quella della pagatezza, dell'armonia. E come ho detto prima con l'intervista, io sarò il presidente di tutti i territori, la provincia deve essere la casa dei comuni e una provincia soprattutto svuotata negli ultimi anni deve riprendere il contatto con i territori. Lo deve fare innanzitutto da ricreare un rapporto, una dialettica e anche un rapporto umano con i sindaci che sono gli alfieri dei territori, dunque io sarò a disposizione dei sindaci. La cosa che farò, come ho detto prima, è farò un giro sulle vallate e farò capire che la presidente della provincia non deve essere un passo parte dei sindaci, ma deve essere avere un ruolo selvente nei conti dei sindaci, perché non è il super sindaco della provincia, ma è un sindaco pubblicato e lui deve salutare tutti nello stesso modo, nelle stesse condizioni, questo è quello che farò. E poi questa provincia deve ricordare avere un ruolo centrale anche a livello regionale, perché noi siamo una grande provincia, abbiamo tantissime aziende, abbiamo una popolazione molto lavoriosa e dobbiamo far capire che abbiamo un grande orgoglio, una grande identità che la dobbiamo portare su tutti i territori. Dunque questa vittori non la dedico a tutti i territori, perché questa è la vittoria che la faccio a tutti i territori. L'ultima cosa, un ringrazio che voglio fare, possano molti miei consiglieri comunali che fin dall'inizio, anche contro le cattivelle, sono state dette tante, hanno fatto quadrato con i confronti, mi hanno difeso e siamo stati uniti prima l'ultimo. Dunque vediamo a voi che siete una grande squadra, sono curioso di voi. Grazie. Grazie. Grazie.